Al Grande Fratello sta per arrivare un ingresso clamoroso, destinato a sconvolgere le dinamiche della casa e accendere l'entusiasmo del pubblico. Dopo gli ultimi ingressi avvenuti lunedì 2 dicembre, il reality di Canale 5 si prepara a sorprendere con un'altra giunta di altissimo profilo, prevista tra pochi giorni. Una vera rivoluzione che punta a rilanciare il programma e a catturare nuovamente l'attenzione dei telespettatori. La nuova concorrente VIP sarebbe pronta a portare scompiglio nella casa, rimettendo in discussione gli equilibri tra i geffini. Non si tratta di una semplice new entry, ma di un ritorno attesissimo che potrebbe far gioire milioni di fan. Il suo ingresso rappresenterebbe un momento cruciale per la stagione, regalando un colpo di scena che nessuno si aspettava. Secondo l'anticipazione del sito Davide Maggio, al GF starebbe per tornare Stefania Orlando, la quale dovrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia nella puntata di lunedì 16 dicembre. La conduttrice televisiva e showgirl, nota per aver condotto anche trasmissioni come i fatti vostri, tornerebbe nel reality show di Alfonso Signorini dopo l'esperienza avuta tra il 2020 e il 2021 nella quinta edizione VIP del programma. Un vero e proprio colpo di scena, dato che il suo nome finora non era mai uscito fuori. Invece, salvo imprevisti, dovrebbe diventare una nuova geffina.